Che cos'è? Riccardo Riccardo caro Che cos'è? Una cerimonia? Sì Amore Signor Angerstein, parlategli voi Lo sa già Riccardo Signor Angerstein La vittoria c'è stata Nelson a Trafalgar La vittoria? Sì, come tu supponisti Nelson? Sì A Trafalgar Ha vinto Sì Mi scrisse una lettera Non ve lo dissi Con tanti pensieri ne ebbe uno per me E ora ritornerà Lo rivedrò Eccanoni Riccardo Riccardo E' tornato Ma un patto è un patto Avanti Dammi un pugno sul mento No Orazio 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 Nelson Dove sei? Piccia Riccardo Sei debole Addio Riccardo Addio Orazio Orazio Nelson 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 Grazie.